Ciao amici di Goricia TV, parata folcloristica, pochissima gente e Roby è stato veramente maltrattato, vedrete il servizio, poi il bello che mi mettono all'angolo, guardate qua non c'è nessuno, non c'è gente, forse che volerà la credit, lei non può filmare lì, è quello della Rai e altra gente, tranquilli loro potevano tranquillamente, perché io ho il filmino che c'è quello della Rai che è in mezzo e che ha fermato un gruppo folcloristico li hanno fermati per poterli filmare, a me lei non può filmare, ma dove siamo arrivati? 34 anni di storia io, Beccoroni, 34 anni, non è che ce n'è uno, comunque a parte tutto vi farò vedere la realtà di una volta, saluto queste dolcezze, e poi ho sempre filmato alla mia maniera, sempre, e allora guardatevi il servizio. Saluto la mamma, saluto la mamma, della grande super tabacchino di via Santa Chiaro. Saluto la mamma Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Allora filmo lo stesso, di nuovo, filmo di nuovo, perché a me mi hanno chiesto l'accredito l'altro giorno per l'inaugurazione. Filmo per farvi vedere quanta gente che c'è, non per loro, perché il colore è bello, però... faccio l'abbia, non per l'abbia, non per l'abbia. Salta Gorizia. Grazie a tutti. Grazie a tutti. I due mitici. Ciao, giovani. Ciao. Grazie a tutti. E viva la suavegna. Ciao. Portogallo. Ciao. Portogallo. Ciao. 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 Danzerini, Magna Gheisi, Magna Gheisi. Vai con la Corea. Vai con la Corea. Ciao. 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 Bye bye. Bye bye. Corea, bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye, ciao ciao. Ciao. Qui abbiamo anche la finanza. Capriva. Ciao Capriva. Luci Nico. Ah, Luci Nico. Ma lui mi ha detto che era Capriva. No, no, no. Allora di nuovo, saluto Luci Nico. Un saluto dei danzerini di Luci Nico. Ciao. Ciao. E' Luci Nico, non Capriva. Guarda, guarda. Eccoli qua. Danzerini di Luci Nico. Ciao Capriva. Ciao Capriva. Ciao Caprivo. Ciao Capriva. Ciao Capriva. Saluto. Saluta. Cora Capriva. tua silvana hai visto eccola e tu e tu sai come si chiama la mamma tua stefania e la tua mamma mia fate un bel saluto ciao ciao questa la conosciamo da una vita danzerini di lucinico bisognerà chiedere cosa mangia perché è sempre uguale capito noi invecchiamo e lei invece ha 20 anni il costume ah il costume si ciao ci vediamo eccola qua senti che fischio ti stanno fischiando a te perché sei la più bella dicono il gioiello ciao saluto lucinico petta petta allora questo è il gruppo di villa santina eccoli qua mi raccomando guardate gorizia tv eh si incarna si vede certo guarda qua li dite ecco il bigliettino dopo voi guardate su facebook e su youtube e lì vedete la sfilata tutto e vedete gorizia tv ok ci vediamo eh ho lavorato cinque anni per telefriuli per quello non si vede lavoravo per quell'altra tv che l'hanno chiusa vostra la carnia 600 eh ho lavorato con quella io tanto eh però vi saluto ciao 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 mandi 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 guarda qua che bella professoressa che abbiamo salutiamo la carnia questa è la moldavia ma guardate un po' mamma mia guardate che roba ecco qua previsione ma guardate Valdavia Ma mai frumoasai mandra mea Ma mai frumoasai mandra mea Cand'oprind in gioco ea Ciao 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 Come lo dite? Io sono Gorizia TV Non in faccia ai ragazzi Ho sempre fatto così E lui lo sa Lui è della Rai E lo sa Non in faccia ai ragazzi No ma anche in faccia Ecco fatto Anche lui canta, guardate un po', aviano Anche lui canta, guardate un po' di più Il folto pubblico Un po' di più 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 Guardate che roba ragazzi Un po' di più Ciao ciao Basta Eccola qua Eccola Un po' di più Caprivese Dovrebbe essere quella di Capriva Un po' di più Eccola qua E vai con la Slovenia Guarda, guardate un po' di più E vado qua, guardate un po' di più E sarà per un po' di più Anche si può di più Italia Sicilia Ciao Bionda Ciao Sicilia Fine Vai con la Sicilia Italia Vediamo di dove sono Di Tarcento E dove si trova? La provincia di Udine Ah Chino di Di Tarcento Ah ecco Quante volte sono andato a filmare a Tarcento Ah ecco I vostri cori Le vostre carnevali Tantissime cose Tarcento Ok Ci vediamo E vai con Tarcento La posizione Vai Ciao Tarcento Ciao Tarcento Ma tutti alti così a Tarcento? Sì Tutti Tutti alti così? Sì E muscolosi come lui no? Sì tutti Mamma mia Magari ha detto eh Magari hai detto? Magari Ah perché se no sono tutti piccoli Eh se no sono un po' così così Ah sono così così E là a Tarcento sono tutte belle come te? Sì sì sono tutte belle come me Venite a Tarcento Allora da lunedì saremo lì Ok perfetto Guarda chi c'è anche dietro di te Anche lui Anche lui è carino E certo c'è il tuo amore qua no? Eh sì esatto Perfetto Ci vediamo dopo Ciao Intanto guarda qua Dopo poi quando che vai a Tarcento Puoi vedere questo Grazie Ciao Ciao Di che segno sei? Sagitario Come mia figlia Ui 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 No Sempre solo attenti con voi eh Ci vediamo Ciao Adesso vado con l'ultima Ciao Ciao Come va? Tutte alte come te? A Tarcento? Quasi Più o meno no? Ce n'è qualcun'altra alta che oggi non c'è Devo mettermi i zoccoli io no? Le zeppe Senti di che segno sei? Sagitario Come mia figlia Sempre sull'attenti Ti saluto Saluto a Gorizia TV Arrivederci Arrivederci E saluto le forze dell'ordine qua Eccole qua Le salutiamo che lavorano in piena Vero no? Vero Salutiamo a Tarcento Vediamo questi di dove sono Questi sono Messico Eccoli qua Basta la vista Ciao 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 Aspetta un attimo Non rompe i coglioni Non la puoi stare in mezzo alla gente Ma come no? Non la puoi stare in mezzo alla gente Sono un giornalista va bene? E non rompe i coglioni No 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 per niente Allora Mi sta lontano E mi rompe le balle Va bene? Perché mi sto lavorando Lei non la sta in mezzo all'ospettacolo Mi sto lavorando Va bene? Lei non la sta in mezzo all'ospettacolo Te sta di là Va bene? E non rompe i coglioni Allora mi sono autorizzato a stare in mezzo Ma meno che sto un metro Ma meno che sto un metro va bene? E non può No E non può 34 anni di storia va bene? E ti cammini dritto Va bene? La Pol Starga è un metro Mi posso stare a fare lo che voglio La devi avere rispetto Mi vorrei stare a tutti Che fa un'esibizione La devi avere rispetto Sul marciapiede No No Sul marciapiede No Non può stare al centro Non può stare qua È pericoloso Da quando è qua? Sono 34 anni di storia qua Non la era mai così stacata Sempre così Mai così stacata Sempre così Sempre stato Mai così stacato Sono sempre stato lontano E non ti rompe le balle Non ti sta in mezzo? No Mi sto qua come sono sempre stato 34 anni di storia 34 anni? 34 anni va bene? E non ti rompi i coglioni Però sei in mezzo alla strada Non sono in mezzo Sono qua va bene? Ma parte tutto E ti tingiù le mani Mi sono fermo Mi anche No Te sono ti Che ti mi spingi E se Devo andare a chiamarla a locale? Va a chiamarla a locale Va a chiamarla a locale Cori va a chiamarla a locale Ti sto chiedendo Per cortesia De non star tacato Basta Non sto chiedendo altro Da se rende conto E questo è il servizio d'ordine E questo è il servizio d'ordine Se ne regal Grazie a tutti. Allora si chiude il corteo, portiamo l'ambulanza pronta. Carabinieri, salutiamo e chiudiamo il servizio. Chiudiamo il servizio qua. Avete visto che sistema di autorità che credono di avere questi? Da una vita che filmavo sempre in centro, questo è il servizio di Gorizia. Ti cercano di mettere i bastoni fra le ruote. Chiudiamo qua il servizio. Avete visto come sono stato maltrattato? Pochissima gente che possono fare quello che vogliono. Io non riesco a capire, sempre con me ce l'hanno. Avranno invidia, 34 anni di storia.